Poi quando mori, una bella medaglia al valore, funerare all'etestato, e chi si è visto si è visto. Ma che vita stiamo a fare, oh? Sì? Attanzi, ho avuto l'autorizzazione. Vai, che poi il mandato mi arriva qui in ufficio. Ok, ricevuto, ma manda una pattuglia. È già sul posto che mi aspetta. Attà, carta bianca, inventate quello che ti pare, ma riportalo dentro. Ok. Oh, si sta voglia stavezza, guarda. Andiamo a andare. Tu vai sul retro. Chi è? Apri, polizia. Lo faccio il silenzio. Ecco, mi arrivo. Che c'è? Dovemmo fare una perquisizione. Ma che perquisizione di che? Controllate tutto, vai. Cercare bene dappertutto. Ma ce l'hai che mandato? Ma quale è mandato? Ma che serve? Da, quando è qua per mandare? Come la sei per mandare? Oh, vai, che sta a fare? Oh, stronzo, e che cazzo? La fai finita? Ma sei schifo qua. Vai, vai. Oh, non fate cazzate. Oh, io non ho fatto niente. Sono uscito una settimana qua in carcere. Non l'ho fatto niente. Sta buono. Ma che ti ho fatto io? Ma che ti ho fatto io? Ma cammina. Che ti ho fatto? Damo, damo. Oh, perché c'hai? Non metti. Oh. Damo, cammina. Io non l'ho fatto un cazzo. No, muovite. Non l'ho fatto niente. Oh. Che stai a fattire là? Che c'hai qua dentro? Che c'ho? I vestiti? Lo mescio, il cazzo, te sanno. Vai, vai, fruga. Controlla il bagno, controlla. Eh, ma andrà a stare. Oh, ma fai stai a stare. Ma che è una parola che stai? Eh, oh. Che ti ho fatto? Allora, l'ho trovato qua. Hai capito? Vedi, questa è roba tua. No, eh. No, eh. No, eh. Questa non è roba mia. Mi stai ad incastrare? Metti agli atti come trova. Mi fai incastrare? Mi fai incastrare? Bastardo di me. Ma parla, parla il culo, va. Oh, no, no. Ma che cazzo ti ho fatto? Eh, che cazzo ti ho fatto? Il Brasile. Non ce lo mando io a un Brasile adesso. Brasile.